Siamo qui a questa manifestazione Yamaha per toccare con mano il prodotto elettroacustico che è quello che ci interessa. Troviamo il sistema Yamaha con un look molto accattivante e un'elettronica molto performante. Ci riproponiamo di installarlo nelle nostre presenti e future impegni di lavoro. Si spezza la monotonia dell'ambito fieristico e quindi si crea questo giusto connubio tra il leisure e il work tra il piacere e il lavoro. Poi condito con un pranzo che affratella gli operatori del settore direi che è una giusta e intelligente e giusta manifestazione.